Prevista lunedì 7 maggio alle ore 11 in via consultore Benintendi a Caltanissetta la cerimonia commemorativa del diciannovesimo anniversario della morte del sindaco Michele Abate. Un'ordinanza della direzione Polizia Municipale dal numero 113 del 24 aprile scorso prevede dalle otto accessate esigenze l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via consultore Benintendi nel tratto di strada compreso tra la via Fornaia e via Colasberna e dalle 10.30 sino al termine della cerimonia la sospensione temporanea della circolazione veicolare in via consultore Benintendi nel tratto di strada compreso tra via Fornaia e via Colasberna nonché nella stessa via Fornaia. Michele Abate ucciso il 7 maggio del 1999 era stato eletto sindaco nel dicembre del 1997 era medico con una grande passione per il teatro.